Il governo Renzi non ha perso tempo e ha sfornato il nono decreto salva-ilva a tempi di record, neanche fossero pizzelle. Peccato che qui non stiamo parlando di prelibatezze, ma stiamo parlando di morte, perché l'ilva attuale, così com'è, senza ambientalizzazione è uno strumento di morte. Lo dicono le cifre, lo dice il numero degli ammalati di cancro e dei morti per cancro. Mi rivolgo all'onorevole Pelillo, uno dei massimi rappresentanti del PD sul territorio, forse il leader del PD sul territorio. Beh, onorevole Pelillo, lei in numerose occasioni ha parlato di sfide che il governo Renzi sta facendo a favore di Taranto per l'ambientalizzazione. Alla faccia, lei parla di sfide, ma qui stiamo rischiando la pelle. Qui rinviare l'attuazione delle prescrizioni dell'AIA significa far morire altre persone, far ammalare altre persone. Le sfide, onorevole Pelillo, massimo rispetto per la sua persona, io le scommesse le vado a fare quando ne ho voglia. Nelle sale giochi, nei centri di scommesse per le partite, non si può scommettere e puntare sulla vita umana. Onorevole Pelillo, ma lei si rende conto che il governo ha fallito in pieno, che i vari governi che si sono succeduti non sapevano e non sanno più che pesci prendere. Siamo arrivati a nove decreti, provvedimenti presi con urgenza per salvare un mostro, un mostro che uccide. E il diritto alla salute, il diritto alla vita, onorevole Pelillo, un diritto costituzionalmente garantito. Dove è finito con questi provvedimenti scellerati? Ci mancava l'ultimo, il nono, ma non sarà l'ultimo purtroppo. Ne vedremo altri, perché l'obiettivo di Renzi e dei suoi compagni e del PD è quello di far vivere a tutti i costi l'azienda, di far vivere il mostro, tanto, pure che muore la gente, è un costo da pagare. No, onorevole Pelillo, no, signori del PD, no, governo Renzi. Noi ci batteremo con le associazioni ambientalistiche, con tutte le forze politiche, di destra, di sinistra, di centro, con tutte le forze politiche e gli uomini di buona volontà per far sì che Taranto venga rispettata. Non siamo il fanalino di coda dell'Italia intera. Noi vogliamo vivere, vogliamo che i nostri figli possano vivere. Ed è triste dirlo, ma forse più di qualcuno dovrebbe trovarsi un ammalato di cancro in casa per capire cosa significa il cancro, cosa significa l'ILVA. Meditate, signori cittadini, meditate. E, onorevole Pelillo, la invito ad un confronto pubblico con il sottoscritto su questi temi. Non si tiri indietro e risponda alle domande. Non faccia come ha fatto alla Camera di Commercio quando l'era presente insieme al senatore Tomaselli si rifiutò di rispondere alle mie sacrosante domande, quelle dettate dalla coscienza sofferente del popolo tarantino.